Nasce una candidatura di radici? Nasce a Fondare Radici in un percorso ormai di qualche anno, con la spinta dal basso di giovani, di imprenditori, di operatori turistici, ma anche di persone che hanno dato la vita per la politica rosetana. La loro fiducia nei miei confronti mi ha spinto ad andare a testa alta e a credere in questo progetto, a costruire una candidatura fatta di liste civiche e di liste che vogliono mettere a servizio competenze, tempo e generosità per la città di Roseto. Credo che da professore di matematica non posso illudere i rosetani di una vittoria al primo turno, anche se me lo auguro, perché ovviamente sarà un mese di campagna elettorale per cercare di avere la fiducia del maggior numero possibile. In ogni caso, credendo di poter arrivare al ballottaggio, crediamo che sui progetti, sulle idee, sui valori e su ciò che semineremo in questo mese si potrà costruire una vittoria, a prescindere da apparentamenti, a prescindere da accordi, che comunque si valuteranno solo nel caso in cui saranno proposti e soprattutto su delle tematiche e su dei progetti seri.